Allora, arriva questa tanto sospirata vittoria tra le mura di casa, si cancella la brutta sconfitta di 15 giorni fa. Di Lorenzo, ci siamo sbloccati, almeno sotto rete. Sì, ci abbiamo messo un po', però è arrivato pure il gol, quello è secondario, la cosa che più mi fa piacere è che siamo riusciti a giocare partendo da quello che eravamo, perché siamo riusciti a imporre il nostro gioco come abbiamo fatto l'anno scorso, con gli innesti nuovi, però partendo da una base solita che è quella che è sempre stata la forza di questa squadra. Ecco, è un allenamento pre-partita, l'abbiamo visto un po' in affanno, forse proprio per quello si è entrata un po' in ritardo, non scelta dal primo minuto dal mister. Sì, ci è voluto tempo, però alla fine sono riuscito a trovarmi bene in campo con la mia squadra e sono felice che anche se lentamente, però, siamo riusciti a fare il nostro gioco tutti insieme, a prescindere dal personale poi. Miccio, sembra un caso, però poi la svolta sembra arrivata proprio con il tuo ingresso in campo, una nuova soluzione, almeno in questa circostanza della partita che è stata abbastanza difficile? Diciamo che la partita non si è messa molto bene, soprattutto perché le avversarie, a mio avviso, erano un po' scorrette. E quindi, niente, diciamo che abbiamo cambiato un po' gioco, abbiamo onnestato un po' di velocità, pressing, perché comunque loro erano chiuse molto bene. Bene, il primo tempo, tra l'altro, almeno nei primi 15 minuti, solo a voi ha referto. Sì, però al secondo tempo siamo iniziate pacate, abbiamo sbagliato parecchi passaggi, abbiamo lasciato troppo giocare, quindi di conseguenza loro hanno preso il sopravvento, andando anche in vantaggio. Poi, per fortuna, siamo riusciti a restare calme, a non farci prendere dai nervosismi indotti anche dagli avversari. E purtroppo c'è stata un'espulsione che, a mio avviso, molto dubbio, molto discutibile. Ma, a parte quello, secondo me, dovrebbe essere il contrario, cioè dall'altra parte, perché devi sanzionare determinati atteggiamenti, compresa me che ho preso una munizione, a mio avviso, molto discutibile. Però, purtroppo, nel gioco, gli arbitri fanno parte del gioco, quindi... Sta uscendo questa coccinella con il suo gioco? L'avviso è che abbiamo una buona squadra, ottimi cambi, dobbiamo semplicemente amalgamarci, comunque... Provare un po' più di fiducia in voi stesse. Ho preso il mister che comunque ci sta inculcando un tipo di gioco che, chiaramente, a tutte è nuovo. E quindi determinate cose, con il passare del tempo, verranno molto più facili. Quindi, per ora va bene così, ci portiamo tre punti a casa e quello è l'importante.